Abbiamo trovato una cassetta farmacia delle medicinali e vediamo i medici. Vieni a vedere, vieni, vieni, bravo, bravo, bravo. La cosa più importante ecco, in bucari, ciugare, città, 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 città. Città, 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 però è prasso, però è qui, azi ho restare, e città, e città, e così. si chiude molto bene bravo 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 prendi finisci lì con la passeggiata e con ecco fai un 30 160 per capire anche dove siamo